Noi con la nebbia abbiamo visto il giusto, ti chiediamo di partire dal calcio di rigore, ci è sembrato abbastanza netto e il gol poi è anche un'occasione importante a metà secondo tempo. Sì, il calcio di rigore era netto perché l'ho presa con la mano e sono un po' arrabbiato per questo calcio di rigore perché dopo un primo tempo secondo me dominato, dove potevamo andare in gol anche più di una volta, ma purtroppo non siamo riusciti a concretizzare le occasioni e poi è successo l'episodio di rigore che ci ha tagliato un po' le gambe. Poi siamo stati bravi a rientrare nel secondo tempo con la giusta cattiveria e sono stato bravo e fortunato a inserirmi e a buttarla dentro di testa. Caffè pagato a Zampano che ti ha veramente scucchiaiato un po' di perfetto. Cena pagato a Zampano, cena pagato a Zampano. Ecco, con questo nuovo modulo forse proprio voi mezziali, soprattutto per le tue caratteristiche, siete un po' i giocatori che possono trarre maggiore beneficio anche a livello tattico. Sei d'accordo? Sì, sì, sì. A me piace inserirmi. Questo modulo ti permette di arrivare davanti alla porta facilmente. Quindi sono contento di questa posizione in campo, anche se comunque ho ricoperto tutti i ruoli del centrocampo, sia a due che a tre. Quindi non è un problema per me.